sono le sei e mezza del mattino siamo in partenza per alicante spagna c'è un traffico incredibile macchina messa al sicuro tagliandino messo chiavi lasciamo giù e adesso si fa ce l'ho fatta, che corsa, ho quasi perduto il muro grande master pronti per la partenza andiamo dai ragazzi di San Marino da dov'è che ci fanno? ciao a tutti, sono qua il mio amico come ti chiamano? Devin, mi ha corto il pelo e ti ha dei capelli si inizia la sessione notturna di allenamenti vai vai vai, balla, balla guarda il fisico ohhhh oh, oh 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 ah 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 Nel peso ci siamo, ho sete, ho fame e adesso ho comprato un po' di queste cose così le porto al peso, ho riempito lo zaino, andando al peso, gli scaldini, non ce la faccio più, eccoci salabesi, peso fatto finalmente, più beve, non ce la faccio più. Lui c'è il palazzetto, il primo comandamento contro Spagna, pazzettissimo. Pronto, andiamo a vincere, andiamo a comandare, andiamo a comandare. Pronto, andiamo a comandare, andiamo a comandare. Pronto, andiamo a comandare. Sì qua, fine gara, adesso ci mangiamo il nostro mega hamburger. Sì qua. 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 Sì qua.